Cari amici ben trovati in questa nuova settimana, vedrà la mia presenza al nostro appuntamento di meditazione sulla parola di Dio. Innanzitutto porgo un saluto a tutte le comunità della nostra diocesi, in particolare alle comunità di Godega, di Riffronto le Rustinie, perché oggi ricorre la festa di Santa Margherita, che è la patrona di queste comunità. Prima di ascoltare la parola di Dio di questa giornata, invochiamo come di consueto lo Spirito Santo con una preghiera. O Dio che hai promesso di stabilire la tua dimora in quanti ascoltano la tua parola e la mettono in pratica, manda il tuo Spirito, perché richiami al nostro cuore tutto quello che il Cristo ha fatto e insegnato e ci renda capaci di amarci gli uni gli altri come Lui ci ha amati. Veniamo allora al Vangelo di questa giornata, il Vangelo secondo Matteo, il capitolo 12, versetti da 38 a 42. Lo leggo così dal messale, come ci viene proposto, dal messalino, scusate, come ci viene proposto oggi. In quel tempo alcuni iscrivi e farisei dissero a Gesù, Maestro, da te vogliamo vedere un segno. Ed egli rispose loro, Una generazione malvagia e adultera pretende un segno, ma non le sarà dato alcun segno se non il segno di Giona, il profeta. Come infatti Giona rimase tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo resterà tre giorni e tre notti nel cuore della terra. Nel giorno del giudizio, quelli di Ninive si alzeranno contro questa generazione e la condanneranno, perché essi alla predicazione di Giona si convertirono. Ed ecco qui vi è uno più grande di Giona. Nel giorno del giudizio, la regina del sud si alzerà contro questa generazione e la condannerà, perché ella venne dagli estremi confini della terra per ascoltare la sapienza di Salomone. Ed ecco qui vi è uno più grande di Salomone. Ecco, questo è un po' il Vangelo di questa giornata. Questa appartiene alla sezione che è dedicata al mistero del Regno dei Cieli. Nel prosiego un po' di questo Vangelo, il Regno dei Cieli varrà anche especitato attraverso il racconto delle parabole. Volevo soffermarmi così su alcuni passaggi di questo brano. Innanzitutto Gesù interloquisce come scrive Farisai, anzi sono loro che vengono a interpellarlo, gli pongono questa domanda, da te vogliamo vedere un segno maestro. E la prima cosa che mi viene da dire in questo Vangelo c'è ben poco di politicamente corretto. Gesù ha un linguaggio molto duro contro queste persone. Gli scrive i Farisei. E come mai ha un linguaggio così duro contro di loro? Beh, a mio avviso, questo mi pare sia un messaggio molto evidente un po' in quello che è tutto il Vangelo, Gesù si scaglia in modo durissimo contro quanti utilizzano la religione per affermare il proprio potere e affermare se stessi. Scrive i Farisei rischiano effettivamente di utilizzare la religione per impossessarsi del potere. E quindi Gesù diventa a loro particolarmente ostile. Ostile nel senso dell'invita, con delle parole dure, a convertirsi e a cambiare la propria prospettiva. Però questo mi pare un punto decisivo di quella che è la predicazione di Gesù. Contrastare chi sfrutta la religione, l'immagine di Dio, per impossessarsi del potere. Scrive i Farisei chiedono un segno. Da questo punto di vista mi pare uno estremamente attuali, perché forse anche noi desideriamo vedere dei segni. Chiediamo chissà quante volte dei segni a Dio per poter credere, per poter vedere come andranno le cose, per poter essere rassicurati. Ebbene, la domanda che gli Scrive e i Farisei pongono a Gesù, la richiesta di un segno, è anche un modo però per mettere in difficoltà Gesù, come per metterlo di fronte a un ostacolo insuperabile, in qualche modo farlo cadere, farlo inciampare. Mi colpisce il modo in cui Gesù risponde a questa domanda, a questo intervento di Scrivi e Farisei. Scrivi e Farisei immaginavano forse un sì o un no, la capacità di Gesù di dare un segno, oppure la manifestazione della sua incapacità a darne. Invece Gesù risponde in una modalità, potremmo dire molto rabbinica, attraverso la quale spiazza i propri interlocutori, dà una risposta che i suoi interlocutori non si sarebbero aspettati, e parla di un segno, un segno di Giona. Da un lato il segno di Giona, Scrivi e Farisei sapevano benissimo che cos'era, no? Giona nel vento del pesce, tre giorni, il libro di Giona, è un libro molto noto, molto conosciuto nell'Antico Testamento. E tuttavia la novità di Cristo è che lega questo episodio di Giona nel vento del pesce per tre giorni, alla figura misteriosa del figlio dell'uomo e al suo destino di entrare nel ventre della terra. Ed è un linguaggio che sicuramente gli interlocutori, Scrivi e Farisei, con cui Gesù sta interloquendo, non comprendono, non capiscono, rimangono sconcertati. Probabilmente si saranno posti delle domande e degli interrogativi. Ecco, anche questo è tipico un po' di Gesù. In tante delle sue risposte egli spiazza i suoi interlocutori e li invita a porsi nuove domande, a farsi nuovi interrogativi. Qual è in definitiva questo segno di Giona che Gesù lega al figlio dell'uomo e al ventre della terra per tre giorni? Per noi cristiani è immediatamente riconosciuto come il mistero di morte e risurrezione di Cristo. Quindi Gesù sta in qualche maniera profetizzando su quella che è la sua vicenda di morte e risurrezione. Sta dicendo, se voi volete capire veramente chi io sono, dovete in qualche modo comprendere, andare a vedere, quel segno particolare che è la mia morte e risurrezione, la mia Pasqua. Anche questo, secondo me, è un aspetto molto importante e di grande attualità, di grande significato per noi. Vale a dire, se vogliamo capire chi sia Gesù, anziché andare alla ricerca di chissà quanti e di chissà quali segni, siamo chiamati a concentrarci sul mistero per eccellenza, sul segno per eccellenza che è la sua Pasqua. Ecco, e poi concludo. Nella seconda parte del brano che abbiamo ascoltato, Gesù parla ancora una volta di Giona, parla della regina di Saba, di cui si facendo nel libro delle cronache che andò da Salomone per conoscerne la sapienza e la sua capacità anche di aver creato un regno molto importante. Ebbene, queste due figure Gesù le chiamano in causa per dire guardate che qui c'è di più di Giona e c'è di più di Salomone. Come a dire, voi, scrive Farisei, non siete in grado di riconoscere la novità del tempo in cui state vivendo. Non siete capaci di riconoscere il di più che la mia vita manifesta. E anche questo è un appello alla conversione, è un appello ad aprire gli occhi di fronte alla novità che Gesù porta. Venendo un po' a noi, che cosa possono dirci questi versetti del Vangelo che abbiamo ascoltato? Direi innanzitutto l'invito a fare attenzione a non trasformare la religione in uno strumento per cercare il potere e l'affermazione di sé. Questa è forse la bestemmia più grande contro cui Gesù si scaglia. In secondo luogo, se vogliamo capire chi è veramente Gesù, siamo chiamati ad andare alla sua Pasqua. Quello è il segno per eccellenza per comprenderne la sua identità. E infine, siamo chiamati anche noi, come gli scrive i farisei, a riconoscere il di più che nella vita di Gesù si manifesta e si rivela, riconoscendone l'unicità e la singolarità. Ecco, questa è un po' la riflessione che vi offro per questa giornata e, come di consueto, concludiamo con una preghiera di benedizione. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E buona giornata a tutti. E buona giornata a tutti.